Eccomi, sono uscita fuori dalle mura, così non avete da rimproverarmi. Se la mia riservatezza però scambiate per superbia, allora non c'è giustizia nei vostri occhi. Non è giusto disprezzare qualcuno senza prima aver sperimentato il suo animo, se da lui non si è ricevuto offesa. L'ospite deve adeguarsi alla città che lo ospita, ma non è lodabile il cittadino che per difetto di conoscenza disprezza i nuovi arrivati. Sono sola, sono sola, senza patria. Quale città mi accoglierà? Quale ospite amare la terra? Quale terra? Quale casa vorrà offrirmi riparo? Vorrà darmi rifugio, sicurezza, asilo. Nessuno? 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 Grazie a tutti